Buon pomeriggio a tutti, riprendiamo questa giornata. Nella seconda parte parleremo della seconda parte della vita america e tannanesi, quindi più dedita al sociale. Volevo chiedere a Manuela San Marco, che è il presidente della commissione educazione del municipio 3, che è uno dei nostri sponsor ufficiali, se vuol dire due parole su questa iniziativa, nonché docente lei, direttore. Buonasera, ringrazio per l'invito, ringrazio le professoresse Norando e Magnaghi Delfino per questa amicizia che si è sviluppata già a partire dallo scorso anno con il municipio 3 di Milano. E' davvero con grande gioia che anche da parte di Caterina Antola, presidente del municipio 3, abbiamo accolto la proposta di patrocinare questo evento, che per la qualità dell'offerta proposta ci sembrava un'occasione d'oro per partecipare con un contributo alla riflessione di tutta una città sul rapporto tra le scienze e il mondo delle donne, dell'opportunità all'interno di alcuni ambiti professionali non sempre troppo frequentati, e parlo appunto dell'iniziativa Stem in the City. Poi devo dire aggiungo e chiudo un particolare apprezzamento personale, perché nella preistoria mi sono occupata anch'io di profili biobibliografici femminili, da un punto di vista scientifico, quindi apprezzo particolarmente questo doveroso recupero della memoria dei personaggi che per il canone letterare intellettuali sono cosiddetti minori e che invece hanno dato un contributo così rilevante alla storia del passato e in qualche modo indirettamente a quella del presente, che poi rivelano a chi sappia sondare queste vite anche degli aspetti molto interessanti, talvolta anche Romanzeschi, perciò porgo i migliori auguri per la continuazione dei lavori e ringrazio per questa bella amicizia che poi troverà modo di avere conferma nella settimana della scienza a breve. Grazie. Grazie Manuela. Siamo pronti a cominciare la seconda parte della giornata e vi presento Felice Mirabella che è responsabile dell'Istituto Milanese dei Martiniti e delle Stelline e Cristina Cenedella che è dirigente responsabile del Museo Martiniti e Stelline. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto porto i saluti del Dottor Sileo, il Direttore Generale che doveva aprire la sessione pomeridiana perché a causa di un impegno imprevisto è trattenuto in ufficio e ci siamo sentiti poco fa per telefono e farà di tutto almeno per porgere il suo saluto se riesce a liberarsi e ad arrivare per tempo. Quindi come ha detto la professoressa io sono il responsabile degli istituti milanesi Martiniti e Stelline lavoro da circa 30 anni in questa storica azienda che si occupa di assistenza alla persona dai minori agli anziani che è il più albergo trivulzio la dicitura corretta è azienda di servizi alla persona istituti milanesi Martiniti e Stelline e più albergo trivulzio i Martiniti e le Stelline sono l'evoluzione degli antichi orfanotrofi i Martiniti furono fondati nel 1528 da San Girolamo Emiliani che condusse il primo gruppo di orfani raccolti nella città di Milano raccogliendoli nella parrocchia di San Martino e da lì deriva il nome Martiniti invece le Stelline datano il 1575 e nascono presso la parrocchia della Stella nel corso del tempo gli orfanotrofi hanno offerto ricovero, assistenza, istruzione ed educazione ai minori in stato di abbandono adeguando le forme di intervento all'evolversi della situazione, della richiesta sociale e del bisogno dei fanciulli la normativa nazionale ha a suo tempo imposto la chiusura degli istituti a favore di interventi più consoni al benessere psicofisico del minore come l'affido, il collocamento in comunità familiari o in comunità educative Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi che vengono ospitati nella comunità in un contesto di normalità quindi frequentare la scuola del quartiere, fare amicizia con i compagni di classe e frequentarli come avviene per ognuno di noi siamo stati tutti ragazzi e con i compagni studiavamo, venivano a casa nostra la stessa modalità è riproposta nelle nostre comunità alloggio I Martinitte sono stati dei precursori in tal senso e ancora prima che ci fosse una normativa, nel 1978 nasce la prima comunità alloggio per maschi in un prestigioso stabile di proprietà dell'azienda nel corso degli anni si aprono nuove comunità e la sede storica di via Pitteri si svuota completamente oggi è sede di un campus universitario gestito da Aller Lombardia attualmente gestiamo 5 comunità alloggio due per adolescenti femmine, una in via Poma e una in via Alfieri che a breve si uniranno in via Cortatone dando vita ad una comunità da 10 utenti due comunità femminile e due comunità maschili quella di Cortatone e quella di via Poma che ospitano 10 minori ciascuna una mista all'inate che accoglie bambini dai 5 ai 13 anni per rispondere alle necessità della città per quei minori che sono in uno stato di abbandono o in situazioni di pericolo sono stati inoltre aperti due servizi di pronto intervento che sono ubicati in via Rubattino e possono accogliere 10 adolescenti maschi ciascuna completano la nostra offerta educativa due pensionati per maggiorenni uno maschile per complessivi 18 posti e uno femminile per complessivi 6 posti l'utenza è costituita da maggiorenni provenienti anche da altre realtà educative esterne alle nostre comunità alloggio quindi i servizi educativi dell'IMMES sono tutti servizi residenziali non abbiamo servizi diurni o laboratori ma sono tutte comunità residenziali e si rivolgono a minori e neomaggiorenni di entrambi i sessi italiani e stranieri in situazioni di bisogno e di forte disagio segnalati dai servizi sociali dal comune di Milano dai comuni limitrofi o dal centro di giustizia minorile allo stato attuale assistiamo 80 ragazzi di cui 55 minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni se con prosieguo amministrativo fino ai 21 la maggior parte di essi sono maschi di provenienza straniera e non hanno quindi la famiglia in Italia sono definiti tecnicamente minori stranieri non accompagnati sono ragazzi ai quali in età adolescenziale viene richiesto di essere responsabili e immaturi di venire in Italia inserirsi nell'ambiente lavorativo e di sostenere la famiglia che è rimasta nel luogo nel paese di origine nei servizi di pronto intervento arrivano minori sempre più piccoli età dai 15 ai 16 anni e non è possibile che così presto vadano a lavorare però questa è la loro richiesta non comprendono l'italiano hanno una bassa scolarizzazione se non addirittura analfabeti nella loro lingua d'origine e spesso sono vittime di deprivazione affettiva che non ha consentito loro uno sviluppo psicofisico armonico si trovano quindi in un contesto distante dalla loro cultura devono stabilire un rapporto di fiducia con le figure educative che trovano in comunità spesso queste figure sono figure femminili alle quali non riconoscono autorevolezza la figura femminile è percepita nella loro cultura in un modo diverso e quindi sarà faticoso stabilire con loro un rapporto di fiducia in modo tale da consentirgli di raccontare la loro storia a volte è fatta di violenza che hanno subito nel tratto migratorio o l'orrore è che hanno dovuto sopportare chi proviene dai paesi dove c'è la guerra con fatica gli educatori che sono tutti educatori professionisti stabiliscono i primi contatti anche con l'aiuto di mediatori culturali inizia a crearsi un rapporto di fiducia si raccolgono i racconti del viaggio a volte impressionanti per le violenze e le sofferenze patite si coinvolgono se necessario i servizi del territorio e si imposta un progetto educativo che li aiuti a rielaborare il trauma migratorio e a condurre il più possibile una vita serena per tutti si provvede a regolarizzarne la posizione permesso di soggiorno inserimento in percorsi scolastici facilitanti per l'apprendimento della lingua italiana o in attività ricreative perché comunque ricordiamo che lo spirito della comunità è il più vicino possibile ad un modello familiare quindi frequenteranno le associazioni sportive verranno iscritti in piscina o in palestra e in estate avranno anche un periodo di vacanza da trascorrere in località marine o montane ma questi sono gli adolescenti grosso modo accogliamo anche ragazzi più piccoli su disposizione dell'autorità giudiziaria che necessitano di un collocamento per essere tutelati perché si sospettano magari violenze e abusi in passato abbiamo accolto un bambino che si trovava al centro estivo e il responsabile di questo centro aveva notato dei segni aveva allertato il servizio sociale l'indomani questi segni erano più marcati quindi ha rifatto la segnalazione questo bambino è stato collocato in comunità su disposizione del giudice perché veniva individuata una situazione pregiudizievole per la sua crescita quindi è stato collocato in una nostra comunità accompagnato dalle forze dell'ordine dal nucleo tutela donne in comunità è stato preparato un intervento per poterlo accogliere perché è un bambino che viene portato dal centro estivo ad una comunità è un trauma e quindi si deve cercare il più possibile di renderlo meno traumatico si è fermato da noi per qualche mese poi grazie ai supporti del servizio sociale agli incontri protetti che si sono attivati al lavoro educativo con la famiglia anche questo bambino è rientrato presso la sua famiglia d'origine non erano vere e proprie violenze ma erano solo eccessi di metodi correttivi perché nel loro paese di origine la cinghia veniva usata e quando il papà si è reso conto che quello che stava facendo non era accettabile ha subito modificato il suo modello educativo però purtroppo la violenza ha varie forme per colpire più indifesi abbiamo accolto minori con provvedimenti di urgenza che a casa non avevano le basilari cure andavano a scuola sporchi con vestiti non consoni alla stagione scarsamente alimentati e inoltre magari in famiglia erano presenti situazioni di promiscuità è importante che tra di noi si coltivi la cultura dell'informazione e quando si viene a conoscenza di situazioni pregiudizievoli si riesca ad allertare i servizi a segnalare queste cose perché purtroppo la nostra esperienza ci dice che chi subisce violenza o abusi è probabile che è da adulto da vittima diventi carnefice negli anni abbiamo ospitato anche ragazzi straniere quindi di seconda generazione nate in Italia magari anche a Milano che sono andate a scuola hanno stretto amicizia con i loro coetanei che si sono integrate completamente però a loro spesso viene richiesto dai genitori di vivere secondo le usanze del paese di origine di vestirsi in modo diverso rispetto ai loro amici e di prepararsi a sposare l'uomo scelto dalla famiglia impedendoli quindi di autodeterminarsi e di fare le proprie scelte ciò infrange i sogni di una ragazza e molte volte grazie all'aiuto dei docenti la ragazza riesce ad esternare quelli che sono i suoi pensieri le sue paure arrivando a denunciare la famiglia perché arriva questo perché in famiglia non è sostenuta dalla madre che non riesce ad opporsi alla volontà del marito non è sostenuta dai fratelli che se sono maschi non comprendono la sua ribellione non è sostenuta dalle sorelle perché magari hanno già fatto la fine di essersi sposate con l'uomo che non amavano ma che era stato scelto dalla famiglia in comunità si cerca di fare un percorso anche di ricostruzione di quello che è il legame familiare in modo tale che possa la famiglia fare un percorso e capire che in Italia le cose magari possono funzionare in un modo diverso e alla ragazza di mediazione concludendo il più delle volte l'intervento con un rientro in famiglia lavoriamo anche con ragazzi che provengono dal circuito penale emblematica è la storia di un ragazzo della Romania che viene colto in fragranza di reato accompagnato al beccaria ed al beccaria assegnato diciamo collocato in uno dei due servizi di pronto intervento il percorso ovviamente è duro all'inizio perché comunque sono ragazzi che arrivano in Italia con un mandato con un sogno che si infrange e quindi bisogna aiutarli a prenderne coscienza e questo ragazzo ha fatto un percorso scolastico è riuscito a fare la scuola per barman è stato inserito all'interno di una struttura comunque che potesse accogliere e farlo sperimentare in un ambiente lavorativo ha scontato anche la pena con i lavori socialmente utili facendo volontariato al PAT cioè al trivulzio inserito in un progetto nonni e ragazzi ebbene questo ragazzo ha dato il meglio di sé in questo progetto perché si è giocato la parte sana è riuscito a lavorare con una persona afasica e a fargli catalogare i libri della biblioteca oggi questo ragazzo è tornato in Romania è papà di una magnifica bambina e ha diciamo superato quello che era un progetto di vita che l'avrebbe condotto alla delinquenza questo per dirvi che i Martinit non sono solo quelli del 1500 ma esistiamo tutt'oggi gli educatori continuano la loro opera educativa verso quei minori che hanno difficoltà e si trovano in una condizione di bisogno siano essi milanesi italiani o provenienti da tutte le parti del mondo grazie prego Camilla adesso abbiamo Cristina Cenedella laureata in storia docente di archivistica presso l'università cattolica di Milano e direttrice del museo Martinit Stellinia di Milano grazie si sente no devi schiacciare il pulsante centrale così si sente sì grazie a tutti e grazie soprattutto del gradito invito un attimo bene io invece vi parlerò della seconda vita di Maria Gaetana Agnesi e neppure tutta in realtà perché la seconda parte della vita di Maria Gaetana Agnesi è più lunga della prima vi parlerò della sua della sua attività al Pio albergo Trivulzio dunque il Pio albergo Trivulzio ed è per questo che abbiamo avuto prima l'intervento di Felice Mirabella è unito da epoca teresiana praticamente cioè dalla seconda metà del settecento da quando nasce è unito a Martinit e Stelline cioè ai due storici orfanotrofi di Milano e quindi parliamo di assistenza siamo nell'ambito dell'assistenza e l'assistenza a coloro che non sono in grado perché anziani o perché minori di cavarsela da soli ma procediamo con la nostra Gaetana Maria Gaetana Agnesi allora ripercorro brevemente molto brevemente la sua vita sto fermandomi solo su alcuni punti che mi sembrano importanti perché dunque lei è primogenita come sicuramente vi hanno già detto di Anna Brivio e di Pietro che era un mercante e poi dal 1740 feudatario di Montevecchia la cosa a cui lui teneva la nobilizzazione a cui lui teneva Maria Gaetana nacque il 16 maggio del 18 nel vicolo di Santa Caterina a Milano e venne battezzata il 23 maggio con il nome di Margherita Gaetana Angela Maria ci sono i documenti di battesimo nella parrocchia e abitò finché le sue scelte non divennero drastiche nel palazzo Biumi di via Pantano come avete già sentito nell'appartamento paterno che a quanto pare dalle descrizioni coeve era molto ben arredato e molto riccamente allestito ebbe alcuni momenti particolari nella vita uno di questi sicuramente a 14 anni ho cercato di vedere questa donna anche da un punto di vista psicologico diciamo perché a 14 anni morì la madre siamo nel 1732 lei si trova quindi da sola non solo ma si trova anche a essere la primogenita di diversi fratelli e sorelle e in seguito lei sarà sempre la primogenita di una schiera di sorellastre e fratellastri perché il padre come forse avete già sentito io purtroppo ho perso le prime due relazioni non so se ve l'hanno già detto il padre si sposò due volte ancora e ebbe 20 figli in totale per cui ebbe lei anche a convivere quindi con due matrigne ricoprendo sempre questo ruolo di primogenita di donna di donna di ragazza di fanciulla prima ragazza e donna poi responsabile responsabile grande forse più grande di quel che poteva dimostrare la sua età e soprattutto fin da piccola fin da fanciulla investita dal desiderio paterno di primeggiare nei salotti milanesi questa cosa ve l'hanno già detta e io aggiungerei che è perlomeno significativo che il padre avesse investito le sue mire sociali sulle due figlie femmine Maria Gaetana e Maria Teresa che era una nota clavicembalista che divenne una nota clavicembalista comunque sapete che nel 1738 lei espose le sue 101 tesi filosofiche rimaste famose aveva solo vent'anni è a questo punto che lei chiede dopo l'esposizione di queste tesi filosofiche e la discussione nei salotti che voleva dire non so perdonatemi se l'hanno già detto ma voleva dire che sosteneva le tesi in latino rispondeva alle questioni sollevate contestualmente all'esposizione direttamente in latino perché questa era la prassi dei salotti comunque contestualmente lei rivela al padre la sua vocazione spirituale e il suo desiderio di andare in convento e qui giungono ad un accordo perché il padre non gliela concede cioè potete immaginare la situazione familiare in cui questo quest'uomo che non ha ancora ottenuto il titolo nobiliare che avrà solo che avrà solo due anni più tardi insomma che si vede far questa richiesta avanzare questa richiesta dalla figlia prediletta dall'oracolo sette lingue e quindi non acconsente non acconsente ma lei che è caparbia e questo è un primo aspetto della secondo me della psicologia di questa donna il fatto che lei fosse perseguisse e veramente abbia perseguito fino in fondo le sue scelte dice e giungono quindi ad un accordo secondo il quale Maria Gaetana smette di frequentare occasioni pubbliche a parte alcuni altri salotti che il padre le allestisce e va quante volte desidera la settimana a messa e soprattutto smette di frequentare teatri e situazioni come dire amene di divertimento mondane e quindi già in questa occasione Maria Gaetana rivela la sua tempra indomita lei non è rivoluzionaria non è ribelle semplicemente è certa delle proprie scelte di vita ed è persuasa a condurle fino in fondo come sappiamo nel 48 pubblica le istituzioni analitiche di cui avete parlato ampiamente stamattina ha 30 anni e ha passato un decennio a studiare le scienze la matematica in particolare perfettamente cosciente però dello scopo al quale stava mirando e sempre con questa coscienza della sua stessa persona e del suo genere il fatto che fosse una donna pubblica quando pubblica l'istituzione analitica e le dedica a Maria Teresa Dasburgo che dice esattamente una donna di grande ingegno di grandissime capacità insomma una donna che nonostante i 16 figli avuti riesce a reggere le sorti di un impero immenso riesce a aver ragione dai suoi nemici tranne in un piccolo caso ma insomma e che peraltro hanno la stessa età allora la la Maria Gaetana fa questa dedica che è come dire di malcelata soddisfazione dicendo appunto a Maria Teresa che guardi per caso il suo genere è anche il mio perché sono anch'io una donna quattro anni più tardi questi sono dei punti fondamentali in cui esce proprio questa figura questa psicologia quattro anni più tardi muore il padre Pietro lei ha solo 34 anni e si sente finalmente libera di seguire il suo proposito più fermo cioè ritirarsi a una vita scettica con lo studio delle sacre scritture e con le opere di bene e di assistenza Anton Francesco Frisi che è il suo primo biografo suo amico anche che è fratello di Paolo che era un matematico conosciuto dalla stessa Gaetana vediamo che ho dimenticato un po' di diapositive ma abbiate pazienza eccola qui la dedica a Maria Teresa vabbè queste invece le dobbiamo allora scrive di lei che dopo la morte del padre si dedicò completamente a quello che voleva cioè la vita religiosa ascettica e di assistenza lei distribuì le ore del giorno nelle occupazioni prefisse con tale successivo riparto che anche ritirata dal concorso dei letterati non restava le alcuno spazio vacuo d'affari alzavasi di buon mattino come ebbe sempre in costume da poi anche giunta all'età più matura e portavasi alla vicina chiesa di Sant'Antonio dei padri teatini ivi spesso conferiva col suo direttore Giuseppe Maria Reina proposto di quella casa religiosa e due volte alla settimana si accostava a ricevere i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia visitava sovente il pubblico ospedale prestando agli infermi i cristiani uffici con le parole e con le opere passava quindi alla visita delle inferme nella propria parrocchia somministrando ad esse e ad altre sparse per la città nei casi più urgenti ogni opportuno conforto in qualunque stagione non lasciò mai il giorno di accompagnare il viatico agli infermi suoi comparrocchiani tutte le feste di precetto interveniva immancabilmente alla dottrina cristiana nella chiesa di santa caterina presso la basilica dei santissimi apostoli visitava nelle solennità maggiori le sette chiese stazionali di città soleva procurarsi nelle proprie stanze una o due inferme presso le quali godeva di esercitare gli uffici di amica di spedaliera di ancella e di maestra di spirito notte e giorno provvedendo ai loro bisogni con le proprie mani senza sostituzione di alcuno dei suoi domestici né l'uridezza dei mali né le più ributtanti medicazioni la distoglievano per poco da si pietoso e si grave in carico eppure la vista sola della corporale schifosa situazione di una di esse occorsa una volta alla direi sorella donna paola a cui certo non manca talento vivezza né pietà bastò come la mia testa a commuoverla e a turbarla per più giornate quanto però abbondava di carità la nostra Agnese in beneficio del suo prossimo altrettanto rigida e mortificata si mostrava verso sé medesima quindi abbiamo una donna completamente trasformata completamente diversa da quella che conoscono i contemporanei frequentatrice dei salotti paterni e devo dire che è una donna che da lì in poi si piano piano si isola si isola dalla mondanità ma si isola totalmente anche le lettere che sono di lei sono conservate in Ambrosiana in Biblioteca Ambrosiana arrivano fino appunto più o meno a questi anni al 52 poi di lei si sa pochissimo si sa pochissimo ci sono pochi documenti se non i suoi manoscritti ma come documenti archivistici le lettere sono veramente poche ne sono rimaste poche che cosa succede che nello stesso anno della morte del padre lei rinuncia alla sua quota di eredità a favore dei fratelli e si riserva però una quota annuale in cambio e una somma una tantum tutte somme che lei utilizzerà per il sollievo dei più poveri dei più miseri il suo bisogno afflato di compiere opere di carità diventa per lei sempre più impellente inizialmente paga i fratelli un affitto per le stanze nel suo nel palazzo di via pantano il palazzo dove è cresciuta dove allestisce un piccolo ospedale però racconta il suo biografo Frisi che entra in frizione presto con i fratelli perché potete immaginarvi non solo l'andirivieni di persone da assistere ma anche la sporcizia l'ha raccontata proprio prima piattamente il Frisi o i cattivi odori che potevano provenire dall'allestimento a mini ospedale di queste stanze nel 1760 gli attriti con i fratelli sono troppo forti e lei se ne va prende in affitto con i soldi con la piccola quota annuale che aveva stabilito in cambio con i fratelli una piccola casa in Porta Vigentina sono trascorsi ormai otto anni dalla morte del padre nel 71 nel 1771 si trasferisce con i suoi ammalati in una casa in Porta Romana ereditata dalla famiglia materna ma nel 1771 siamo nell'anno in cui il primo gennaio viene inaugurato il più albergo Trivulzio e l'arcivescovo di allora Giuseppe Pozzobonelli invita Maria Gaetana Agnesi ad assumere l'incarico di visitatrice e di donna di governo lei ha 53 anni ormai è quasi 20 anni che ha cambiato completamente vita e si dedica come avete sentito dal suo biografo alle opere di carità è una donna comunque molto forte risoluta volitiva continua per 12 anni a svolgere questa attività di spettrice di donna di governo nel più albergo Trivulzio fino a che nel 1783 ecco qua questo è il palazzo Trivulzio in una immagine dell'epoca insomma dell'epoca di fondazione finché nel 1783 viene invitata ad andare ad abitare all'interno del pio albergo a quel punto lei risolutamente vuole pagare l'affitto delle due stanze che occupa e a sua disposizione cosa che all'epoca desta anche la meraviglia dello stesso biografo e comunque non è conso una nobil donna tiene a sua disposizione solo una donna di servizio e un servo comunque nel 1783 quando lei va a vivere qui in due stanzette di cui paga l'affitto nel pio albergo Maria Gaetana ha 65 anni quindi non è giovanissima e il pio albergo in quel periodo dà ospitalità ha 460 ospiti che erano cresciuti in modo esponenziale perché quando il primo gennaio il pio albergo ha aperto le porte nel 1771 gli ospiti che poteva accogliere erano solo 100 ma chi erano questi ospiti un attimo che poi ci leggiamo e vado avanti chi erano questi ospiti ecco qua del pio albergo Trivulzio il principe e dallo stesso regolamento e lo stesso regolamento avevano stabilito che dovessero essere ricoverati tutti gli impotenti gli impotenti per età o per malattia o per infermità chi sono gli impotenti sono coloro che non possono cioè coloro che non possono procurarsi di che vivere in una società in cui non c'è welfare non c'è assistenza di fatto ognuno è lasciato più o meno con con diverse come dire con molte diversità in diversi casi insomma chi non poteva lavorare non poteva guadagnarsi di che sopravvivere e sono questi quindi gli impotenti e come vedete i poveri ricoverati nel luogo pio Trivulzi di cui poi lei si sarebbe occupata sono vecchi o non so sì che si legge sono vecchi piagati incurabili e cronici fatui muti ciechi i fatui sono come dire non i pazzi ma coloro che oggi chiameremmo malati di Alzheimer o di demenza senile coloro che sono andati un po' fuori di testa gli storpi e mostruosi come vedete di storpi e mostruosi ce ne sono tantissimi ce ne sono ben 19 coloro che invece potevano servire nell'infermeria nel rifettorio nei dormitori eccetera e coloro che potevano essere impiegati perché erano tanti gli storpi e mostruosi perché spesso o erano mutilati persone che erano stati mutilati sul lavoro o in guerra c'è una figura noi abbiamo gli elenchi nominali con nome cognome età e malattia di fatto il perché sono stati ricoverati c'è una figura veramente toccante che è quella di un soldato che chiede la carità sull'esposto si diceva esposto su di poca paglia su una cariola la cariola a disposizione erano quelle specie di baracchine con quattro ruote che si facevano anche da piccoli di legno che si potevano spostare quindi senza braccia e senza gambe perché era un ex soldato che aveva servito sua maestà imperiale e ora si trovava a chiedere l'elemosina non si sa come potesse sopravvivere o un'altra figura la cui descrizione è veramente orrenda è un un uomo affetto da nanismo che però era ricoperto di piaghe insanabili viene viene scritto nel nel foglio di accoglienza allora ecco di queste Maria Gatanagnesi si occupò di queste persone di persone di questo tipo cosa faceva esattamente io vi posso leggere il regolamento della priora allora per dirvi che poi lei non si occupò solo di questo nel primo regolamento del più albergo tribulzio c'è scritto che la donna di governo cioè la priora dovrà impiegare tutta la sua attività per servizio del più albergo e avrà le persone necessarie per supplire il lavoro della biancheria del vestiario eccetera al di là i zelo per i vantaggi del luogo pio sarà affidato il regolamento di tutte le donne perché si osservi il sistema universale e veglierà principalmente sopra i loro diporti cioè sulle loro uscite in modo che se alcuna meritasse correzione dopo aver premesse le dovute opportune ammunizioni ne informerà il maggior domo terrà l'eguaglianza in ogni cosa con tutte le donne eccetera ogni mattina andrà a osservare nei dormitori perché alle ore prefisse siano tutte elevate perché dopo aver rassettato i letti vadano tutte sollecitamente in chiesa e così via allora non posso leggervelo tutto se no sono quattro pagine del regolamento in realtà la nostra Gaetana la nostra Gaetana faceva come come il frisice descrive vent'anni prima faceva un po' di tutto e lo faceva anche praticamente cioè non era solo la direttrice che ossia la priora che sorvegliava con l'aiuto di aiutanti di funzionari di infermieri eccetera no lo faceva lei stessa con le sue mani e e pensava come dire interveniva a 360 gradi in questa attività perché si occupava anche ad esempio della retribuzione in denaro del personale adibito all'assistenza e scriveva all'allora direttore insomma del del più albergo del Trivulzio dicendo ma forse è meglio pagare un pochino di più queste donne perché altrimenti svolgono male il loro lavoro insomma è veramente una persona una persona come dire che riveste il suo incarico a 360 gradi e soprattutto che non ha paura di nessuno le scrive direttamente ai consiglieri delegati dicendo ci sono anche delle male lingue poi vi leggo la lettera ci sono anche delle male lingue che dicono che il mio lavoro ha causato degli inconvenienti all'interno del più albergo venite prima da me a chiedere questo è il sunto di quello che lei dice e poi si occupano dei furti del pane dell'incompetenza di un medico delle vere e proprie pazze che perché non ci sono solo i fatui o le fatue ma ci sono anche quelli pazzi che bisognava togliere dal più albergo insomma si occupa veramente a 360 gradi di tutta questa attività e con questo piglio deciso adesso per entrare un po' un pochino di più nella sua nella sua attività vi leggo qualche stralcio di alcune lettere premetto che ne abbiamo poche in tutta anche in archivio di stato nei nostri nei nostri archivi che lì abbiamo depositato le lettere di Maria Gaetana sono poche non arrivano a 15 però però sono abbastanza pregnanti per esempio a proposito a proposito delle malelingue lei scrive per non incomodare vostra signoria illustrissima e scrive al consigliere delegato diciamo compisco il mio dovere iscritto ma debbo riverentemente pregarla nel caso che le venissero fatti dai sinistri rapporti intorno alla mia direzione volessero far comparire dei disordini come provenienti dal mio governo sono a pregarla di volersene prima chiarire con certezza intendendo anche da me o dal signor vicario come vada la cosa tanto più che mi è noto ad evidenza il grande disgusto che gli ufficiali del luogo pio provano per questa mia direzione siccome quella che in parte li priva di quell'assoluto dominio che cotanto ambiscono per cui insomma come dire non ha molti peli sulla lingua e oppure per dover scrive a uno dei medici al dottor Giussani ma scusate Maria Agnesi non avendo avuto la sorte di riverire il signor dottor Giussani gli fa sapere che per alcuni giusti riflessi non stima giusto di permettere alla tiella tiella è il nome di una donna che faccia fuoco in un fornello con la scusa dei decottini e dei brodi lunghi quanto invece peraltro se ne serve piuttosto per cucinare in quel picciolo camerino sotto la scala e però quando questa venisse a fare del rumore cioè a lamentarsi siccome ha fatto con chi scrive lo prega sospendervi ogni determinazione affinché si sia abboccato con chi scrive con tutta la stima si protesta a sua serva obbligatissima dice appunto venga a dirlo a me prima e così via ci sono anche c'è una in quest'altra lettera che vi leggo si vede anche come dire un minuto si vede anche la lettera scusate si vede anche la la vita interna di una donna una taltonietta che le mosinava il pane lamentandosi di suo marito ma lasciamo perdere perché per ultima vi leggerai invece quella che forse è la lettera sua più conosciuta sono state tutte pubblicate queste lettere peraltro quella della dello sbaglio che fa un chirurgo molto illustrissimo signor padrone sempre il consigliere si ricorderà il signor dottor pellegrini che gli dissi tempo fa che il chirurgo bertoli molte volte falla i salassi facendo due o tre tagli senza che possa uscire sangue e deve poi passare ad altro salasso in un'altra parte anche presentemente ha fatto così con la povera Gussi avendola prima salassata nel piede poi passato a cavarne sangue dal braccio ma quel che è peggio si è che non ha ben fasciato il braccio e senza vedersene le è uscito poi il sangue in gran copia onde forse se le è accelerata la morte queste povere donne no ma poi la lettera è carina perché continua queste povere donne quando hanno il potere di spendere si fanno salassare dal vimercati il quale essendo anche più vicino si può avere pronto alle occasioni e le altre invece hanno grande difficoltà a lasciarsi salassare dal detto chirurgo spero scusate stimo però mio dovere di avvertirne vostra signoria illustrissima a ciò se stima se ritiene ne renda avvisati i signori deputati e si dia per quanto a me sembra opportuna providenza mentre mi professo eccetera poi però ha un ripensamento un piccolo ripensamento come dire per aver parlato forse male del chirurgo e aggiunge sotto per quanto intendo questo disordine accade anche fra gli uomini forse perché gli trema la mano e quindi vabbè vi lascio con questa che forse sulla quale noi ridiamo ma per cui qualche povero qualcuno poverino è morto ecco quando morì morì il 9 di gennaio del 1799 siamo nella Repubblica Cisalpina viene viene sepulta in una fossa comune come costume in quel tempo particolare grazie Cristina prego per averci illustrato questo aspetto sociale e anche spiritoso con queste lettere della nuova vita di Maria Gaetana e adesso passiamo a Maria Eugenia D'Aquino che adesso facciamo partire il tutto direttrice del pacto dei teatri fondatrice del teatro in matematica dice che non può collaborare al tempo e scoprirete tutti il perché non per merito nostro no evidentemente allora faceva un caldo tremendo facciamo un passo indietro quel luglio del 1739 a Milano tant'è che le chiese gli oratori eccetera si riunivano per organizzare processioni riti propiziatori per la pioggia era veramente un caldo insopportabile e in questa canicola opprimente se mi alzi un pochino così ecco questa canicola opprimente si aggirano per Milano due gentiluomini che arrivano dalla Borgogna e sono Charles de Bross magistrato filosofo antropologo linguista presidente del Parlamento di Dijone e suo cugino Germain Lopin de Montmore consigliere anche lui del Parlamento di Dijone e matematico un intimo amico delle linee rette questi due signori stanno viaggiando per l'Italia sul modello del Grand Tour come si usava e stanno in realtà cercando dei manoscritti relativi a Sallustio e intanto ne approfittano per guardarsi in giro vengono a conoscenza della Clelia Grillo Borromeo frequentano un po' vengono a conoscenza dei salotti milanesi e annota Charles de Bross annota tutto in un diario che poi verrà pubblicato e che esiste e tra l'altro in una di queste delle pagine del diario a un certo punto dice che si deve andare dalla Clelia Borromeo ma poi anche deve andare da questa qui una certa Agnesi vent'anni una saputella come dire chissà che rottura e vabbè il giorno dopo essere stato al salotto dell'Agnesi scrive Milano 17 luglio 1739 vi voglio informare di una sorta di fenomeno letterario del quale sono stato orora testimone e che mi è sembrato una cosa più stupenda del Duomo di Milano torno ora dalla casa della signora Agnesi dove ieri vi avevo detto che dovevamo andare mi hanno fatto entrare in un salone grande e bello dove c'erano 30 persone di tutte le nazioni d'Europa disposte in circolo e la signorina Agnesi seduta da sola con la sorellina su un canapè è una fanciulla tra i 18 e i 20 anni né brutta né bella con un'aria molto semplice e dolce ci hanno servito subito molta acqua gelata il che mi è sembrato di buon auspicio io mi aspettavo che si trattasse di una comune conversazione invece il conte Belloni ha voluto fare una specie di pubblica esibizione ha cominciato rivolgendo alla ragazza una bella ringa in latino lei gli ha risposto benissimo successivamente si sono messi a discutere sempre nella stessa lingua sull'origine delle sorgenti e sulle cause del flusso e riflusso che si manifesta in alcune di esse come nel mare vent'anni la fanciulla ha parlato di questo argomento come un angelo poi il conte Belloni mi ha pregato di disputare con lei su qualunque argomento purché fosse un tema filosofico o matematico sono rimasto un po' perplesso perché dovevo improvvisare per un'ora in una lingua che mi è così poco familiare ma mi sono lanciato senza pensarci troppo e abbiamo discusso sul modo con cui l'anima può essere colpita da oggetti fisici e comunicarli agli organi del cervello e poi sull'emanazione della luce e sui colori elementari l'open invece ha dissertato con lei sulla trasparenza dei corpi e sulle proprietà di certe curve geometriche di cui non ho capito niente le ha parlato in francese e lei gli ha chiesto il permesso di rispondergli in latino perché temeva che i termini tecnici non le venissero facilmente in francese ha parlato con meraviglia di tutti questi argomenti dei quali certamente non era stata preavvertita più di quanto lo fossimo noi è fanatica della filosofia di Newton ed è straordinario vedere una persona della sua età affrontare così profondamente temi tanto astratti ma per quanto mi possa aver stupito la sua preparazione più ancora mi ha stupito sentirla parlare latino di cui certamente non fa uso continuo con tanta purezza facilità e correttezza dopo che ha risposto all'open ci siamo alzati e la discussione è diventata generale ogni persona le parlava nella lingua del suo paese e le rispondeva ciascuno nella stessa lingua una sorta di babele al contrario mi disse che le dispiaceva molto se la visita avesse preso la forma di una discussione teorica che a lei non piaceva affatto parlare di cose simili in mezzo a una compagnia dove per uno che si appassiona venti si annoiano dopo la conversazione la sorellina ha suonato al clavicemba lo brani di Ramot quasi fosse lo stesso Ramot e altri composti da lei e ha cantato accompagnandosi da sé mi è molto dispiaciuto quando senti dire che aveva intenzione di ritirarsi in un convento e non certo per bisogno perché è ricchissima ecco questo è stato per me il punto di partenza di un'esplorazione teatrale allora cosa c'entra il teatro con l'Agnesi con la matematica 16 anni fa ho avuto un'idea un'intuizione che parte da un mio lontano passato matematico e che molti qua conoscono e ho pensato di riuscire di cercare di tradurre con il linguaggio teatrale buongiorno consigliera De Marchi scusate abbiamo la nostra interruzione presidente della commissione pari opportunità del consiglio di Milano grazie di essere venuta e cercando di tradurre con il linguaggio che mi appartiene il linguaggio teatrale argomenti matematici è nato un progetto che si chiama teatro in matematica e sono entrate in collisione con questo luogo con il professor Betti con il professor Colorni che è stato il primo il nome tutelare e successivamente con Paola Magnaghi e Tulliano Rando è nato un sodalizio che da 16 anni non si è ancora interrotto che ha prodotto non solo gli spettacoli ma mi ha permesso anche di esplorare una metodologia didattica della matematica a cui accennava e con cui è entrata in collisione anche la professoressa Carimali ha accenato brevemente prima uno strumento che io metto a disposizione dei docenti degli studenti per cercare di avvicinare la matematica attraverso un processo creativo che coinvolge gli studenti in prima persona quindi quando devi compiere un atto creativo devi essere tu che lo fai tu sei il protagonista e attraverso questo riuscire a convogliare delle teorie matematiche in tutto questo un giorno Paola Magnaghi e Tulliano Rando mi dicono ma sai che l'anno prossimo è l'anniversario ai trecento anni della Maria Gaetana Agnesi e io vacillo perché ma perché io ho dedicato spettacoli alle astronome dimenticate ai pazzi a tantissime personalità della matematica e non sapevo dell'esistenza di Maria Gaetana Agnesi mi sono sentita veramente un verme però sono state dotte in brevissimo da loro e loro mi hanno detto perché non facciamo quei tuoi spettacoli che tu fai anche con l'osservatorio astronomico di Brera che con l'astrofisica raccontate la storia della storia eccetera eccetera facciamo una cosa sull'Anesi al che e lì poi sono entrati in gioco anche degli altri più presenti no 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 facciamo dedichiamo tutto l'anno a lei e ci siamo cimentate ciascuna nel proprio ambito politecnico trivulzio patta dei teatri a creare delle occasioni per incontrare questa donna e per conoscerla quindi il mio metodo il mio modo per avvicinare questo era il teatro era raccontare la sua storia come? allora qui ho raccolto tutte le fonti possibili tra l'altro ringrazio Elena Rossi qui perché la sua traduzione bellissima delle proposizioni filosofiche è stata un grandissimo strumento per noi così come sono state le fonti le mille fonti che avete sentito citare oggi e così come lo è stata la più importante biografia attuale della Maria Gaetana Agnesi che è quella di Massimo Mazzotti uno studioso della scienza dell'università di Berkeley che ha scritto purtroppo in inglese ma speriamo col progetto di farla già tradotta di farla uscire in italiano The Word of Maria Gaetana Agnesi The Mathematician of God quindi ha ed è un libro straordinario che non solo racconta dell'Agnesi ma ci illumina sul Settecento su il pensiero la società Milano eccetera raccogliendo tutte queste fonti ho pensato sono partita la lettura del De Bros mi ha illuminato perché ho pensato faccio una conversazione lo spettacolo si intitola Conversazioni spettacolo che noi abbiamo già rappresentato ma che rappresenteremo perché il 2018 è tutto l'anno delle celebrazioni quindi noi a novembre lo riproporremo nel nostro teatro poi vi lascerò un po' di riferimenti per contattarci e l'ho costruito proprio come una conversazione perché le conversazioni dell'Agnesi erano delle drammaturgie fatte finite cioè questa donna possedeva anche l'arte oltre all'arte della retorica ma l'arte della costruzione era veramente una comunicatrice a un livello straordinariamente contemporaneo per cui il salotto era costituito in un modo che c'era il cocktail c'era il momento in cui si dissertava di questi temi di cui avete sentito c'era il momento musicale allora io ho pensato nel teatro ricostruisco un salotto vestita d'epoca racconto entro e esco dalla figura dell'Agnesi e porto un po' in maniera teatrale un po' tutte le testimonianze che avete sentito oggi e poi senza soluzione di continuità invito nel salotto Massimo Mazzotti lo storico che è venuto e tornerà a novembre le matematiche il filosofo che oggi purtroppo non è potuto essere Giuseppe Gergen presenti e può darsi che nelle prossime edizioni ci possa essere anche qualcun altro dei presenti e queste persone il salotto il tema del salotto è restituire tasselli della sua vita questo è diciamo l'operazione teatrale però e qui la chiudo perché poi dell'Agnesi abbiamo sentito parlare tantissimo abbiamo già saputo tutto quello che dovevamo sapere nello spettacolo c'è una trasposizione c'è un momento dell'Agnesi è stato citato un pochino dalla professoressa Cenedella che il momento di crisi c'è un buco nella vita dell'Agnesi un momento tragico l'enfant prodige crolla a un certo punto come succede spesso agli anfant prodige c'è un momento buio quindi nello spettacolo cerchiamo anche di restituire in questa narrazione anche dei momenti il momento della preghiera tutte le mattine recitava l'Ave Maria in greco quindi il teatro serve anche un pochino per evocare non solo per raccontare in modo didascalico in tutta questa avventura mi ha accompagnato e qui passo subito a loro perché vedete i loro nomi lì sono dei rappresentanti mi ha accompagnato il liceo statale Maria Gaetana Agnesi di Milano sono tutti qua adesso parleranno loro che hanno fatto un'alternanza scuola lavoro presso di noi contribuendo alla costruzione della comunicazione organizzazione e promozione di tutto il festival di teatro e scienza che ho organizzato nel mio teatro il primo festival di teatro e scienza a Milano all'interno del quale c'era lo spettacolo dell'Agnesi non solo loro sono stati edotti vengono tutti gli studenti della quarta CSE del liceo statale Agnesi tutti gli anni viene dotto dalla prof Anna Rosa Bosco che poi vi spieghiamo perché non è potuta essere qua sull'Agnesi i cinque rappresentanti che vedete sono cinque di una classe intera tutta la classe sono praticamente lo scibile della vita dell'Agnesi ha prodotto powerpoint documentazioni adesso vi racconteranno brevemente loro e vi faccio vedere uno dei loro prodotti che hanno fatto perché abbiamo presentato al liceo vittorini di cui c'è qui una docente c'è un caffè scientifico al liceo sono molto attivi gli adolescenti delle nostre scuole di Milano al vittorini organizzano il caffè scientifico e loro hanno presentato questo powerpoint che è molto basic sulle notizie dell'Agnesi l'hanno fatto a gennaio adesso hanno diciamo arricchito la loro conoscenza ma vi faccio vedere perché è un loro prodotto di una classe di diciassettenni e il powerpoint aspettate un secondo che ecco qua il powerpoint si conclude con per lo spettacolo loro hanno creato un teaser dello spettacolo di conversazioni e hanno simulato un'intervista alla Maria Gaetana Agnesi adesso ve lo faccio vedere vediamo poi se l'audio è vediamo se parte l'audio a Grazie a tutti. 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 Tulliano e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti.